Che brutto è il resto da mare, con la gente che ti guarda. Poi c'era una ragazza in capola perché la cerebrillata filmavano. Filma le mani, filmare la faccia di lavorare. La mia te interessa quello che fa, non come altro. Beh, giugia, la chi le faceva le foglie. No, non so, 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 non so. Non so, non so, non so, non so.